Vulti sorridenti e strette di mano convinte, quelle di stamani alla presentazione del title sponsor del basket femminile Lemura e non poteva essere diversamente visto quanto è successo nella passata stagione quando all'ultimo secondo era saltato l'accordo per il main sponsor nel modo più impensabile, creando molti disagi all'ambiente lucchese. Si potrebbe dire quindi che l'accordo stretto tra la società di Rodolfo Cavallo, rappresentata al tavolo della presentazione anche dal dirigente responsabile Francesco Raffanelli e dal responsabile marketing Massimo Bianchetti con i vertici della Gesam Gas, presenti sia Stefano Berri, amministratore delegato del gruppo, che Alfredo Donati, presidente della Gesam, sia il migliore acquisto per la prossima stagione cestistica. Una stagione che inizierà il prossimo 14 ottobre col big match contro Schio sul neutro di Pescara che vedrà Gloria Faville e compagne con le nuove maglie marchiate Gesam Gas. La sponsorizzazione della Gesam ci è essenziale per consolidare e per migliorare il progetto Lemura. Questo investimento che ha fatto la Gesam sul basket Lemura ci dà la possibilità di poter dire che il progetto va avanti, che non si tratta di una meteora che appare e scompare, ma soprattutto ci dà la possibilità di diventare punto di riferimento sportivo di qualità del comprensorio lucchese.